Faccio tanti auguri di buon lavoro a chi verrà dopo di me, ma io penso a Flavio Del Bono, sono convinto, l'ho detto in tempi non sospetti, che Flavio vincerà al primo turno, in ogni caso saranno sempre le donne e gli uomini di Bologna a scegliere il loro sindaco, nel libero esercizio democratico che è il voto. Una bella giornata, il bilancio lo facciamo dopo, al momento del passaggio delle consegne. E cosa le mancherà di Bologna? Tantissime cose, credo soprattutto le persone. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS